Sul magnifico verde del prato di Collemaggio hanno sfilato le fiamme gialle della scuola della Guardia di Finanza dell'Aquila. La cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica degli allievi marescialli dell'88esimo corso della finanza si è infatti svolta in mezzo alla gente, nel cuore dell'antica città dell'Aquila, davanti alla Basilica, simbolo degli Aquilani. È una location meravigliosa, il generale Toschi, comandante della Guardia di Finanza, si è innamorato di questa location perché è la seconda volta che la facciamo qui e vuole molto bene all'Aquila, ma credo che sia un posto meraviglioso. Guardate questo verde, guardate questa basilica, è uno dei più bei monumenti italiani. Ricordo che all'Expo era fra le 25 immagini dell'Italia bella nel nostro padiglione. Ha un significato anche particolare, vedete, questo è un giorno per questi ragazzi che giurano, che rimarrà tutta la vita nella loro memoria. Per l'Aquila è importante perché la Guardia di Finanza è il nostro concittadino, voi sapete. E poi c'è questo legame così intenso con la scuola degli allievi, gli ispettori della Guardia di Finanza. È un legame che abbiamo sempre avuto, ma che dopo il sisma è divenuto un qualcosa di quasi indescrivibile perché la caserma accolse la scuola, accolse la città, accolse tutte le istituzioni, in un certo senso le abbracciò. E la cosa più commovente, che io ricorderò sempre, è che c'erano quei ragazzi, che erano ragazzi giovanissimi, che si trovarono a affrontare il grande dolore, fecero servizio all'obitorio dove c'erano i familiari e si diedero da fare le prime ore per accogliere tutta la grande sofferenza. Questa cosa ha lasciato un legame profondo, dopodiché la scuola è cresciuta ancora di più. Oggi qui è uno dei posti, dei luoghi dove si fanno tutti i concorsi d'Italia, quindi è anche un'occasione di sviluppo per la nostra città, per i nostri imprenditori, ma soprattutto è anche un'occasione di far conoscere la città.